Oggi, con questa azione di violenza civile, non presenta, che è la nostra prima federazione, che è super buoni, e per questa opera di arte pop, così simbolica, c'è stata la peggiore che ci dà negli ultimi 500 anni? Oggi, insomma, si vuoi, sono Wilson, Mi ho 26 anni ora, con il niente è quasi quasi senza chance che mi chiede di malattia. Il bisogno dire, l'inazione gubernamentale è un crime di massa contro la nostra generazione, con i nostri amici, con i nostri amici.